La mia passione per la cucina è nata in montagna, con prodotti tipici da montagna, perché andavo a montagna a rampicare e mi è sempre piaciuto mangiare, specialmente dopo tante tempeste, rampicate, difficoltà e quindi anche un'idea di ristorazione è questa, ospitare chi vuole essere tranquillo. E ho incontrato delle persone che mi hanno aiutato di conoscere proprio bene la cucina, la tecnica e soprattutto prodotti, perché la cosa più importante in cucina è conoscere cosiddetta materia prima e poi naturalmente la tecnica di poterla trasformare. Penso che un buon chef dovrebbe avere questi dotti e soprattutto dovrebbe sempre avere una ricerca continua di passione per trasformare anche ciò che conosciamo già in qualcosa di nuovo. Io quello che intendo qua è prendere le ricette che sono antiche, che sono tante e vero piatti unici e poter trasformare la mia maniera, proporre un modo nuovo di assaggiare, faccio un esempio, la torta di palpitun, si chiama palpitun, proprio torta di pane, che è originale di Mongrando. La conoscenza di tecnica mi permette proprio di esperimentare, vedere un attimo cosa riesco a fare e poi confrontarmi con un cliente, uno piace, l'altro un po' meno e così arrivare magari a un prodotto che posso lanciare, posso dire ecco questa è la mia ricetta. Particolarità di carni e primi, bisogna lavorare la polenta, bisogna cercare di trasformare la polenta, possiamo fare una crema o qualcosa che abbia la consistenza un po' diversa, oppure fare un gnocco che è un po' più solido, oppure semplicemente cercare di trasformare qualcosa ancora più innovativo, che può essere una spuma di polenta che appunto la tecnica odierna ci permette di farlo e la conoscenza di questi prodotti. La mia cucina, io ho chiamata sempre cucina del territorio rivisitata, no? Non posso dire innovativa perché io non creo niente di nuovo, io interpreto soltanto quello che esiste già, no? Sono un assaggiatore, un viandante che passa da un posto all'altro e si diverte con i prodotti che trova. Ecco, questa è la mia idea. Ecco, questa è la mia idea. Ecco, questa è la mia idea.